Blocco dei mezzi pubblici, se a bordo vi è un passeggero privo di mascherina che sarà multato e fatto scendere. Massimo della sanzione, pari a 1000 euro, per chiunque non indossi la mascherina dove è già previsto dalle ordinanze regionali, ossia in tutti i luoghi al chiuso. Sono due dei punti contenuti nell'ordinanza che il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato dopo una riunione dell'unità di crisi. Nell'ordinanza, si invitano le forze dell'ordine e le pulizie municipali a controlli rigorosi nelle situazioni di assembramento e nelle quali al chiuso i cittadini non indossano la mascherina. Inoltre, chi arriva da paesi esteri deve osservare la quarantena. È stato dato mandato alle aziende sanitarie di individuare alberghi Covid da riservare alla quarantena di pazienti asintomatici. Ora noi possiamo convivere e ancora oggi la situazione del paese non è drammatica, ma vi è un incremento di contagio ampiamente previsto, prevedibile. Possiamo convivere in tranquillità ad una sola condizione, che i nostri concittadini siano responsabili e adottino comportamenti rigorosi. Altrimenti, lo ripeto, ci faremo male e rischiamo di non arrivare neanche a settembre. Noi dobbiamo reggere fino a marzo e per reggere tenendo in piedi le attività economiche, commerciali, del tempo libero, culturali, per convivere per sei, sette, otto mesi con il contagio, noi dobbiamo adottare comportamenti responsabili. Questa convivenza diventerà impossibile se abbiamo gente che pensa che il contagio sia stato eliminato. Voglio lanciare un primo avvertimento perché scatti un senso di responsabilità, ma questo avvertimento significa che da qui a una settimana e due verifichiamo che il contagio non si stabilizza, si prenderanno altre decisioni, più pesanti. Sono sei i nuovi positivi al coronavirus in Campania, su 1.557 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dall'unità di crisi della regione. Salgono così a 4.880 le persone contagiate dal coronavirus dall'inizio della pandemia. Complessivamente risultano guarite 4.114 persone, tre nel resoconto diffuso dall'unità di crisi della regione Campania ieri, tutte considerate completamente guarite, mentre in totale ci sono stati 434 decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati esaminati 1.557 tamponi e complessivamente sono 319.860.